Nei momenti di grande fragilità e sofferenza le istituzioni devono dimostrare con fatti concreti la vicinanza ai cittadini. Questo è un bel esempio, perché la Regione con questo provvedimento ha dato l'opportunità alla macchina amministrativa, al Comune di Taranto, di adoperarsi per dare garanzia di continuità al lavoro delle persone che avevano perso, finito o terminato la cassa integrazione. Perché è molto bello? Perché questo provvedimento si realizza perché c'è l'armonia fra gli imprenditori, i sindacati, le associazioni, le amministrazioni, i cittadini che permettono di continuare al lavoro. Lavorare è importante perché si deve lavorare per dare alla società, per dare agli altri, non solo per avere l'indenità giusta, ma si deve lavorare per essere utili a questa società perché questo è un messaggio forte di vicinanza e questo crea armonia nella società. La platea si è allargata anche a coloro i quali hanno ultimato di percepire gli ammortizzatori sociali. Quindi ora paradossalmente abbiamo una forza lavoro importante che sarà caricata anche sul sistema Puglia, quindi sapremo chi è il beneficiario di queste misure e invece al contrario abbiamo bisogno che vengano presentati dei progetti di tirocinio formativi. Per il momento la città di Taranto ha 366 mila euro da spendere, l'amministrazione comunale li vuole spendere fino all'ultimo centesimo, ovviamente ci attendiamo una grande risposta dal sistema delle imprese, sollecitata e stimolata anche dai sindacati. Mi aspetto una risposta importante e quindi se si lavora bene il comune di Taranto può anche attingere da risorse che non vengono spese dagli altri comuni perché complessivamente i fondi che mette a disposizione la regione Puglia sono 7 milioni, ma nel caso in cui alcuni ambiti non dovessero centrare l'obiettivo non è da escludere che questi fondi siano destinati alla città di Taranto. Noi adesso stiamo verificando un po' anche per capire esattamente quelle sono le somme, però insomma saranno assolutamente somme che possono dare un piccolo sollievo, ecco questo sicuramente. È ovvio che la platea è molto ampia, su questo non ci sono dubbi, i problemi ovviamente non si possono risolvere con queste misure, è chiaro che soprattutto la regione Puglia e Taranto in particolare ha bisogno di investimenti perché è lì poi che dobbiamo noi ricercare il vero lavoro e quindi dare quella dignità a tutti quanti per avere un lavoro e quindi avere diciamo quel reinserimento nel mondo del lavoro, ecco questo è quello che noi pensiamo. Taranto obiettivamente diciamo noi l'abbiamo posta come la prima provincia, come la provincia diciamo che ha più bisogno nello scenario regionale. Cercheremo con tutte le misure a disposizione sia quelle nazionali sia quelle regionali ma anche l'ultima che noi stiamo in dirittura d'arrivo con il RED cercheremo insomma ecco di dare quel poco di ossigeno, quella diciamo quel poco che può servire diciamo a includere socialmente questi lavoratori, questi precari, questi giovani ma non solo i giovani anche diciamo gli over 50 che anche loro stanno subendo diciamo delle diciamo sono anche loro diciamo ai margini diciamo così della società perché si ritrovano non solo diciamo a non avere lavoro ma ad avere famiglia, ad avere figli e quindi a cui pensare quindi è un problema molto serio, noi ce la stiamo mettendo tutta.